Oggi è un giorno molto particolare per te, molto importante, come ti senti? Molto elettrizzato, aspetta, vi prendo un regalino Eccolo qua Parlace un attimino come è nato questo LP, come hai scelto i brani e come è stata un po' la genesi? Allora, beh, questo album è il frutto di tanta fatica e tanto sudore C'è stato questo cambiamento di rotta, sono diventato un cantante singolo E all'inizio è stata un po' spiazzante questa cosa Poi però mettendoci tanta forza di volontà e tanta voglia di fare, di esprimersi, di musica È venuto fuori in plastica e ossa Noi siamo infinito E sono molto soddisfatto perché è il primo progetto che vedo molto mio Ci ha messo tanto cuore e tanta anima Ci ha messo del mio, proprio Alessio Bernabèi ha messo la sua anima in questo album E devo dire che è un miscuglio anche di tante influenze musicali che mi porto da una vita Quindi è un genere, ha un po' di tutto ecco Ha tante influenze e forse prima non ero me al 100% Ora posso dire che sono veramente io Allora sono 12 brani, uno di uno ne hai scritta la musica Mentre di altri due le hai proprio scritti tu Ci puoi raccontare un pochino questi due brani velocemente? Sì, un brano che ho scritto musica e testo è Fra le nuvole, si intitola È un brano ispirato a una ragazza che ho amato in questi ultimi anni Adesso nella mia vita non c'è più, è finita E quindi mi ha ispirato questo Fra le nuvole, che io sono sempre fra le nuvole Ma quando sono innamorato sto proprio fisicamente sulle nuvole E poi l'altra obbligo verità che è nata da una scommessa con un mio amico Eravamo un po' brilli in un locale Abbiamo detto mi sento ispirato, voglio scrivere una canzone Lui fa lo scrittore così a tempo perso E vorrebbe che insomma diventasse un lavoro anche lui E mi ha detto vediamo, ti metto alla prova, vediamo queste potenzialità Facciamo una scommessa, facciamo una canzone insieme E è nata questa canzone, lui ha scritto un po' il testo Io l'ho portata a casa mia, ho continuato il testo e ho messo la musica E è venuto fuori, obbligo verità, una bellissima canzone emotiva al 100% Senti, una cosa, adesso che è uscito, vuoi dire grazie a qualcuno e lo vuoi dedicare a qualcuno? Sì, questo album lo dedico innanzitutto a tutte le persone che hanno creduto in me Fin dall'inizio come Maria Di Filippi La mia famiglia che mi ha sempre supportato e ha sempre creduto nei miei sogni E tutti i miei amici più stretti che non mi abbandonano mai anche nei momenti di difficoltà La mia casa discografica, la Warner Music Il mio manager Gaetano Puglisi Insomma tutte le radio che mi supportano, grazie Senti, com'è andata ieri sera? Ieri sera è andata molto bene, c'è stata questa data zero a Parma E' stato un modo per ritrovare lo spirito, quello di un tempo che mi mancava molto salire su un palco E secondo me l'artista vive proprio di quel momento Cioè non si può fare a meno di stare davanti a un pubblico E devo dire che è stato un bel viaggio perché abbiamo vissuto momenti del passato e momenti del presente E' stato proprio riviversi Ciao spettacolo che spettacolo Mi raccomando vi aspetto ai miei due concerti a Milano il 19 aprile e a Roma il 21 Mi raccomando non mancate Ciao